Dopo cinque anni pare che l'area PIP di località Mattine avrà la realizzazione della tanto richiesta rotatoria, un'infrastruttura voluta soprattutto dai residenti della zona per evitare gli incidenti stradali che in quel tratto di strada in questi ultimi anni sono stati numerosi. Ad annunciarlo ai nostri microfoni è il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola. Nel breve volgere il termine di quest'anno però ci saranno altre opere importanti che verranno avviate in particolare tre interventi di località Mattine, si tratta della rotonda prossima dello svingolo proprio di località Mattine che finalmente abbiamo trovato un'intesa con la provincia e cominceranno subito i lavori, l'intervento di riqualificazione del campo pulito con il posizionamento del campo in erva sintetica e finalmente mi auguro presto la tanto sofferta inizio dei lavori della scuola Mattine che purtroppo a causa di una serie di ricorsi collegati alla gara per l'affidamento del lavoro ci stanno facendo perdere tanto tempo. Qui dovrebbero lavorare i tecnici invece che purtroppo lavorano gli avvocati e questo è un domenico che ci dispiace però purtroppo finché queste cose non lasceranno i tribunali non potremo mettere mano all'inizio dei lavori. Poi non dobbiamo dimenticare gli altri due lavori importanti presso il porto, sia uno di riqualificazione dell'aria e un altro di pulizia del fondale che consentirà quindi guadagnare metri in profondità per dare più possibilità di utilizzo della nostra area portuale. Quindi diciamo che qui a fine di settembre, inizio di ottobre, con questa inaugurazione c'è anche l'occasione di riprendere la corsa per iniziare e completare questi lavori così importanti e strategici per la nostra città.